Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa, l'appuntamento quadriano con l'informazione di Teleruna. Terebanco ancora in Italia la questione politica, questione di instabilità e ingovernabilità, in particolar modo al Senato dove, lo ricordiamo, non c'è una maggioranza decretata dalle urne il 24 e 25 febbraio. Così il dibattito continua sulle probabili e eventuali alleanze che susseguiranno per raggiungere questa maggioranza, ma la trattativa o la presunta tale sembra davvero in alto mare. Ha parlato ieri Bersani, ospite di Fabio Fazio, sulla RAI, poi hanno parlato anche gli esponenti del PDL che si direbbero favorevoli ad un governissimo tra PD e PDL, scongiurato invece dal leader del PD e poi infine Grillo. I grillini che sono arrivati a Roma, che sembrano chiudere a qualsiasi tipo di alleanza, lo leggevo appunto stamattina in un documento che sta circolando sui social network. Un punto chiaro proprio che si sono dati Grillo e grillini è quello di non stringere alleanze con nessun partito, non stringere alcuna alleanza, ma votare legge per legge sul modello della Sicilia. Ma qualcuno dovrebbe spiegargli che abbiamo bisogno necessariamente della fiducia al Senato, altrimenti la situazione diventa così instabile. E poi, lo ricordiamo e lo vedremo dalle pagine dei giornali, grillini che sono arrivati a Roma, una visita guidata che serve a chi ha dimostrato, e lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche dell'intervista alla zanzara del senatore Bartolomeo Pepe, non conoscono dove sia il Senato e, ancora peggio, non conoscono neppure le funzioni. Grillo avverte i parlamentari, è il titolo della prima pagina del Corriere della Sera, i 5 Stelle a Roma, e il leader contesta l'articolo 67 della Costituzione, caccerò a calci chi cambia casacca. L'articolo 67 della Costituzione, lo ricordiamo, esclude il vincolo di mandato per gli eletti. Intanto parla Bersani, decida o tutti a casa. Questi sono i miei 8 punti. 8 priorità per il governo, un ipotetico governo Bersani, dopo lo vedremo nei dettagli, ma dal centro, sempre sul Corriere della Sera, la regina Elisabetta in ospedale con sintomi di gastrointerite, è stata ricoverata, non verrà in Italia, niente visita ufficiale quindi a Roma per Elisabetta d'Inghilterra, la regina ha cancellato gli impegni della settimana dopo il ricovero. Sempre dalla prima pagina del Corriere, segnali da Atene, Lisbona, Londra e Berlino, nuovi partiti antisisteme, in marce contro l'austerity, il vento che scuote l'Europa. Lo vediamo appunto dalla prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla prima del mattino, che apre sui flop dei corsi di formazione. Scandalo in Campania, sono stati spesi 17 milioni e poi trovano lavoro solo in 31. La regione ha bloccato i fondi. Ai programmi dei centri specializzati hanno partecipato in 1300 nel mirino le lezioni fantasma. A proposito di flop di corsi di formazione di lavoro e mezzogiorno, le due tali del primo stipendio, 130 euro tra nord e mezzogiorno, 130 euro in meno ovviamente per chi trova impiego nel mezzogiorno e l'analisi degli stipendi tra nord e sud, la vedremo poi nei dettagli, di spalla sulla sinistra. Governo con il PDL arriva il no di Bersani, Grillo decida o tutti a casa e il segretario chiude alle larghe intese. Lo vediamo dalla prima pagina appunto del mattino. Al centro pagina ancora Gran Bretagna e Nanzia con la copertina dedicata alla regina Elisabetta che è in ospedale e salta la sua visita ufficiale a Roma. Sulla destra di spalla il concursone. A settembre avremo i nuovi prof dalla teoria alla pratica, il concursone per docenti che appena ha chiuso la tappa della prova scritta si concluderà con una novità assoluta. A candidati sarà chiesto di mettersi dall'altra parte della cattedra e simulare una lezione. Ancora dal taglio inferiore del mattino il dibattito intorno e la risposta al ragazzo rapinato che vuole lasciare la città, la lettera che è stata inviata a Napoli va cambiata e non abbandonata. Vediamo meglio questa notizia anche dalla prima pagina del mattino di Napoli. Via da Napoli violenta, città è divisa, lo sfogo del ragazzo ha provocato commenti e reazioni diverse, non devi fuggire e poi si fai bene. Si dividono i commenti a caldo dopo questa notizia, il nuovo caso dopo la lettera di questo 17enne che è stato rapinato, il padre di un minore picchiato, ce ne andiamo. Intanto alcol e movida, due coltellati dopo una rissa, ancora continuano gli episodi di microcriminalità nel napoletano. Dal centro pagina assalto a lungomare, controllo con i cani antiscippo. Le ultime giornate di sole in questo periodo hanno fatto sì che il lungomare sia stato praticamente, ci sono stati un sacco di persone, soprattutto turisti che sono arrivati su lungomare per passare queste belle giornate. Caos e fondi, il forum delle culture slitta a maggio si accelera per poter mettere in liquidazione la fondazione della Carmesse. Il commissario Puca tenta di blindare il budget di 15 milioni. Noi andiamo a vedere le dettagli, le notizie che abbiamo visto e ne vedremo ancora delle altre. Dal mattino sullo spreco formazioni la regione blocca i fondi, spesi 17 milioni di euro dopo la sentenza del TAR, la sospensione dei pagamenti a centri e università. I corsi per 1.337 giovani hanno fruttato solo 31, un lavoro solo per 31 persone senza sbocchi, oltre mille allievi che sono rimasti appunto senza lavoro. Nel milino ci sono le delibere adottate dalle giunte in carica tra il 2007 e il 2008. Carrozzoni e posti fantasma, così nasce il business, per i programmi di formazione una valanga di risorse bruciate senza garantire occupazioni, sulle gestioni sospette dei corsi, l'attenzione della Procura e della Corte dei Conti. Andiamo avanti sempre dal mattino. Primo impiego al sud vale 130 euro in meno, al nord la retribuzione iniziale sfiora quota 8,80. Inflazione e povertà frenano il meridione, già messo in ginocchio appunto dalla disoccupazione. Pensate, anche sugli immigrati la stima è la stessa, un lavoratore straniero guadagna 1.159 euro al mese. in Friuli ne guadagna solo 674 in Campania. Il divario non cambia. Parla lo bello, le imprese si rinnovano, la politica no, le catene clientelari pesano anche sugli under 30. Il vicepresidente di Govindustria, i ragazzi entrano nel lavoro senza sapere che cos'è un'azienda e quindi l'attacco a scuole e università. Andiamo ancora avanti. A proposito di salari, la media è bassa, anche quella dell'Italia, salari tra neossunti e anziani, busta paga più leggera del 61%, ma è il divario anche con l'Unione Europea, l'Italia è sotto. In Germania gli stipendi sono migliori del 15%. E qui andiamo a vedere nei dettagli due che hanno scelto di vivere all'estero proprio per questo motivo. Lo chef che in Svizzera guadagna 1000 euro in più di quanto guadagnava a casa, Genaro ha 38 anni di Benevento, scelta vincente, mi hanno dato anche l'alloggio gratis. E poi parla in manager da Londra, ho potuto pagarmi il mutuo e Eugenio, 37 anni, napoletano, dalla laurea in lettera ai tanti mestieri, oltre manica si può. Torniamo alla notizia che abbiamo visto in primo piano. Non all'iPhone, botte al 15enne, il papà, dobbiamo andarcene, ragazzino terrorizzato, i genitori non denunciano, abbiamo paura. C'è un grande dibattito intorno proprio a questi episodi di microclinamentà che spingono soprattutto i giovani a cercare posto altrove. Lo vediamo e l'abbiamo visto soprattutto dalla lettera del 17enne che è stato rapinato. Scappo, la città si è divisa, 20.000 clic e pioggia di commenti. Ci sono due tipi di commenti. Uno che possiamo riassuntere in non puoi fuggire tutta la vita e l'altro fai bene, non ha senso resistere. C'è chi dice vivo al nord da 50 anni, vai via e lascia perdere la nostalgia e chi invece è contrario, sono i vigliacchi quelli che scappano, se lo fai scapperai tutta la vita. Diciamo che in questi casi ritornano terribilmente nella mente le parole del grande Edoardo De Filippo che rivergentosi soprattutto ai giovani e a Napoli diceva, fui di ven, Napoli non vi offre niente, se volete di meglio andate fuori da questa città ed è se non giustificabile quanto meno comprensibile la voglia di questo giovane di andare via a Napoli dopo quello che è successo, anche se Napoli ovviamente lo diciamo a nord della cronaca non è solo questo, ma in particolar modo anche per la questione crisi. Accominciamo a vedere intanto le reazioni. Parla il DJ Guida, la passione per la nostra terra è più importante, non bisogna abbandonarla, sulla stessa linea troviamo il re delle cravate marinella, resta, hai tutta una vita per cambiare questa realtà. Parla invece l'imprenditore Boccoli che dice Napoli è come le altre città, a questo punto devi andare via dall'Italia, non solo da Napoli. Lo sportivo, Chiuzzi, il campione olimpico di scherma, Fabio prendiamo un caffè insieme, voglio convincerti a non scappare, il sociologo, il professor Pecchinenda è il sindaco di insofferenza a tanta violenza. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna, lite i coltelli davanti al pub, un ragazzo è grave, succede a San Giorgio a Cremano, 21enne colpito alla schiena, lievi ferite per un suo amico. dopo gli insulti e gli spintoni è scattato il pestaggio a calce e pugni e alla fine sono spuntate appunto le armi. Cosa sta succedendo? Alcol e droga e vendette del branco, notti di follia ai piedi del Vesuio, da Portici a San Sebastiano, Ercolano e Torre del Greco, è questa la mappa delle zone più a rischio. Gli adolescenti escono armati, denuncia il mattino, per sembrare più forti agli occhi dei coetani e delle fidanzate. Nel taglio inferiore della stessa pagina del mattino, tra la vita e la morte, il 16enne ferito dal vigilante era stato sorpreso insieme con amici a rubare in un supermarket, centrato con un proiettile. Il ragazzo ancora ricoverato nel reparto di arinimazione, la famiglia denuncia non dovevano sparare, riguarda si difendono, nuovi stressati da turni lunghissimi e faticosi. Ancora avanti, parliamo del lungomare, lo vedevamo in apertura, assalto a lungomare, caos intorno alla ZTL, il sole richiama napoletani turisti, pizzerie sono sold out e affari d'oro per i parcheggiatori abusivi. A proposito di parcheggiatori abusivi, c'è stato un blitz a via Toledo e via Partenope, bloccati, 19 abusivi della sosta, gli illegali multati e allontanati, sotto stretta sorveglianza le strade del passeggio domenicali, controlli auto elettriche lungo i tragitti della ZTL, sequestrati veicoli in moto con conducenti senza casco. Prima di cambiare argomento, rimaniamo e vediamo l'ultima notizia, forum delle culture, caos debiti, la Kermess slitta a maggio, pressing dei creditori per 2 milioni, fondazioni, sprint e liquidazioni per il forum delle culture che è slittato a maggio. Italia Nostra, via Marina Asfalto al posto dei San Pietrini, il presidente Donatone, urgente ripristino della strada per garantire la sicurezza, l'associazione culturale rilancia, ma lasciare il basolato del centro storico, asfalto che sarebbe più solido rispetto al basolato del centro storico, per questo si è deciso di puntare sull'asfalto. Andiamo ora a parlare di politica, riprendiamo le notizie che abbiamo visto in prima, Bersani da Fazio, la prima parola tocca a noi, il reale un patto con il centrodestra, il segretario del PD, i 5 Stelle, c'è un parlarsi tra noi e loro. Parla Pierluigi Bersani che poi parla degli 8 punti, gli 8 punti che stanno alla base di un suo ipotetico governo, li possiamo vedere riassuntivamente, parliamo di legge anticorruzione, legge sul conflitto di interesse, i costi della politica, economia verde e urgenza sociale, la riforma dei diritti civili, voluta in particolare da Vendola, la modifica di partiti che per il segretario del PD vanno riformati sullo stile di quelli europei, l'urgenza del lavoro, scuola e diritto allo studio, è appunto l'ottavo punto, solo così possiamo andare avanti a detto Bersani, ma vediamo nei dettagli quali possono essere le ipotesi di governo. Il governo di minoranza, il PD va da solo a tempo a governare, il premio del PD va in Parlamento e chiede l'intesa anche al Movimento 5 Stelle che però ha chiuso al voto di fiducia su determinati punti programmatici per un esecutivo a tempo, è un governo formato da un solo partito, esecutivo di scopo per la riforma elettorale, il premier potrebbe essere del PD o un tecnico, l'intesa possibile tra i democratici e PDL, pochi obiettivi, il principale è la riforma elettorale per ritornare al voto e sembra oggi quello più da scongiurare ma quello più probabile. L'argentese tra i partiti o premier e i ministri tecnici, il PD, PDL e scelta cifica per affrontare l'emergenza potrebbero accordarsi, le ipotesi, grande coalizioni o governo tecnico con il premier e ministri non partitici come è stato finora. Si torna alle urna giugno con un nuovo capo dello Stato, se non si riuscisse a formare un governo, visti i numeri delle Camere, si tornerebbe al voto e a giugno. Il mandato di Napoletano però scade a maggio, il capo dello Stato non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi al Colle, il cosiddetto semestre bianco. Andiamo a vedere avanti le altre notizie, parlano anche gli esponenti del PDL, Berlusconi si prepara all'eventualità di urne anticipate, il PDL è la scelta della cautela, il PD sta facendo melina, Guagliariello vogliono eleggere da soli il capo dello Stato, parla anche buon aiuto, il PD ha escluso qualsiasi accordo con il PDL e da questa posizione non si è mosso. I democratici seguono Napolitano, il voto non serve, il deputato PDL se il centro-sinistra eleggesse da soli un nuovo capo dello Stato farebbe un errore gravissimo, parla lupi, i pregiudizi del leader PD ci spingono in un vicolo scieco, no, a esecutivi di minoranza. Ancora avanti parlando di politica, mandare via a calci chi cambia casacca, l'avevamo visto dalla prima, è Grillo a parlare, nella Costituzione non c'è un vincolo di mantate, ognuno fa ciò chi vuole, si scontra ora con l'articolo 67 della Costituzione che andrebbe modificato. Privilegi dei partiti, casta, stipendio dei parlamentari, questo è il cavallo di battaglia di Grillo, ma sinceramente di contenuti veri e propri non ne abbiamo visto. Dobbiamo parlare di lavoro, dobbiamo parlare di mezzogiorno, non l'abbiamo visto da nessun altro partito, a parte qualcosina negli otto punti che ha proposto Bersani e che vedevamo poc'anzi, ma di proposte vere e proprie non ce ne sono assolutamente. E poi ci sono questi modi abbastanza bruti, lo avevamo visto anche in campagna elettorale, ma eravamo abituati a questo modo di fare di Grillo, mandare via a calci chi cambia casacca, così ha fatto a chi è partecipato al talk show nei mesi scorsi, così ha fatto accusando di essere un'infiltrata la giovane senatrice, la giovane deputata, neodeputata del Movimento 5 Stelle che si era schierata a favore di una eventuale alleanza con i democratici e fa discutere anche un documento che sta girando nelle ultime ore sui social network, un documento che mette a confronto, i discorsi di Grillo con quelli che ha fatto Hitler in campagna elettorale, prima della sua elezione. I momenti, il contesto storico non è comparabile, ma ci sono diverse analogie, la crisi della politica, non solo quella politica e le parole, soprattutto le parole d'ordine che usa Grillo fanno davvero pensare a quanto siano simili i due. Noi andiamo avanti, parlando sempre di politica, gli eletti a caccia di strategie, non abbiamo parlato di Bersani e il conclave a porte chiuse in un albergo dove sono stati esclusi i giornalisti, è proprio la riunione segreta dei grillini. E poi l'elogio di Fo, il premio Nobel, era necessario un visionario surrealista come Grillo per salvare l'Italia e lui lo sta facendo. Noi andiamo avanti, ultima notizia per quanto riguarda la politica, andiamo a vedere un po' numeri, grande coalizione, un elettore su 13 sì, i democratici sono divisi, il 40% punta ai 5 Stelle, il 33% degli elettori preferirebbe un partito PD Movimento 5 Stelle, l'ipotesi di un esecutivo tecnico piace solo all'11%. Gli elettori del centro-destra appoggiano alla proposta di un esecutivo di unità nazionale, via libera al 72% e per il 47%, i parlamentari 5 Stelle non faranno alleanze ma collaboreranno, ma il 33% da loro solo protesta. Sempre dalla stessa pagina l'analisi è Grillo prova ad intestarsi il disagio sociale, il disagio sociale appunto nel movimento l'idea di una democrazia dove non c'è spazio per la società di mezzo. Noi cambiamo argomento, cominciamo a parlare di sport e di calcio, lo facciamo dalla prima della Gazzetta, Totti fa la storia in primo piano dalla Gazzetta, il posticipo Roma-Genova 3 a 1 segnano pure Perrotta e Borriello, raggiunge Nordal, pensate a 225 renti, manda in golli il baby Romagnoli, Nordal che era secondo nella speciale classifica dei cannonieri che hanno più segnato in Italia. Rimonta dell'Inter sotto 2 a 0 a Catania, entra l'ex Genoano Palassio, Libertone e Nerazzurri in zona Champions, Cassano oggi alla Pinettina, chiederà scusa dopo il diverbio con l'allenatore Stramaccioni. In primo piano c'è Palassio che ha davvero letteralmente cambiato la partita di ieri, Inter sotto di due gol e poi ha vinto a Catania contro il Catania di Maran che è la vera rivelazione di questo campionato, ma non solo vera rivelazione, è una squadra davvero interessante e il titolone della Gazzetta dello Sport è appunto grande come un Palassio. Juve prepara lo sprint scudetto, il Milan è al secondo posto, lo scorso anno contro nelle ultime 10 gare con 10 successi e un pari, bruciò appunto la concorrenza di Allegri. Prima pagina del Corriere della Sera per quanto riguarda lo sport, copertina dedicata all'Inter, l'Inter di un tempo, quella che vinceva e rimontava, la squadra di Stramaccioni vince su un campo difficile segnando nei minuti di recupero, la Lazio è stata raggiunta, Milan è ormai a un punto, sotto per 2-0 a Catania dopo 19 minuti, nelle riprese i nero-azzurri ribaltano il risultato, la sveglia arriva da Palassio e dai senatori, Stanco vince in tre e cambia tutto, cambiasso, serve l'assist decisivo. Ancora avanti, prima pagina per quanto riguarda lo sport del mattino, Napoli la scossa di Mazzarri è il titolone del mattino, in primo piano c'è Edison Cavani, ormai a secco di gol da sette giornate ufficiali consecutive. Prima pagina della Gazzetta dello Sport edizione Campana, rincorsa, azzurra, Napoli non mollare, Inter, Inler ti indica la strada, la strada giusta da seguire, Inler che vediamo qui nella foto di copertina della Gazzetta dello Sport, un'altra rete dalla distanza, impedito alla Juve di allungare, mancano ancora due mesi e mezzo e tutto è possibile. Inler, il vero personaggio della partita contro la Juventus che era cominciata male con il gol di Chiellini, in realtà aveva cominciato malissimo anche Inler, mentre passiamo ai dettagli dalle altre pagine di Sport, dicevo Inler che ha cominciato malissimo alla partita, era stato addirittura fischiato dai tifosi azzurri, poi si è ripreso con il gran gol. E Juve velocista, sprint finale, ritmo alto per lo specialista Conte, il tecnico è bravissimo a gestire le ultime gare di campionato, lo stesso anno con 10 vittorie in pari, Brucio in volata in Milan. Parliamo di Napoli, Cavani a secco, serve sbloccare Amsic, l'ultimo successo della squadra di Mazzari, risale a un mese fa con il Catania, mai come Eura ci vuole la riscossa di Amarek che è il vero motore del centrocampo azzurro. Il gregario perfetto di Cavani, Cavani non segna, è anche perché in Napoli non gira, il centrocampo non funziona come una volta. La previsione dell'amico Lucarelli, ex giocatore azzurro, Scudetto a Napoli e Walter Resta, l'ex attaccante, un fedelissimo di Mazzari e ha giocato due anni con il Matador, l'intervista a Lucarelli del collega Dario Sarnataro. Noi proseguiamo sempre dalla pagina del mattino per vedere le ultime notizie, Mazzari e Cavani sono i giorni della verità, De Laurenti si offre la panchina del Napoli a vita, l'elenatore esita e chiede al club un ritocco consistente per firmare. Dal contratto alla lotta Scudetto il tecnico che carica i giocatori, possibile un sorpasso alla Juventus. Lo vedremo a breve. Noi chiudiamo con una notizia curiosa, la nostra rassegna, parliamo di ciclismo, la beffa di Pozzato, lo vedete qui, arrivato alla fine, Pippo vince la volata ma prima di lui era arrivato Cadri e lui non se n'era accorto, sprint 37 secondi dopo il francese ancora in fuga, senza radioline non si era reso conto di nulla, ha esultato come se avesse vinto, poi ci è rimasto male quando gliel'hanno detto, anche per la bruttissima figura fatta al traguardo. E' davvero tutto per questa edizione, vi ricordo gli appuntamenti per domani a partire dalle 7.30 e poi un'ora più tardi alle 8.30 e vi ringrazio di averci seguito, vi do l'appuntamento a domani, buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete.